È stato firmato in Prefettura Macerata oggi, venerdì 28 luglio, il protocollo d'intesa Presidio Acquatico per la stagione estiva 2017. L'accordo di collaborazione è stato stipulato tra l'amministrazione dell'Interno e i comuni di Civitanova Marche, Porto Recanati e Potenza Picena ed è finalizzato all'istituzione, ad opera del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di un presidio di salvamento acquatico ubicato sull'arenile del territorio di Potenza Picena ed operante nei territori di tutti questi tre comuni. È il sesto anno consecutivo che viene attivato questo presidio acquatico, grazie alla disponibilità dell'Associazione Barracuda che a titolo gratuito concede un piccolo tratto di spiaggia e i Vigili del Fuoco sono così in condizioni di creare una piattaforma fissa con dei mezzi acquatici che sono assolutamente all'avanguardia. Mi riferisco sia ad un gommone sia ad una moto d'acqua che in tempi brevissimi sono in grado di portare il soccorso e agiscono su tutto il nostro litorale, sono una garanzia di sicurezza e già la loro presenza di per sé, anche se stanno fermi, è già prevenzione. Come sempre i Vigili del Fuoco intervengono in materia di soccorso pubblico urgente e come sempre i Vigili del Fuoco sono assolutamente disponibili ad orientare la loro attività anche di prevenzione laddove è necessario. Mi preme in questa sede poter salutare e ringraziare il Comandante Cipriani che a settembre andrà ad assumere un incarico più qualificato e più importante per tutta l'attività che ha svolto soprattutto nel periodo del terremoto per la nostra provincia. A parlare dell'importanza del presidio è stato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Al sesto anno diciamo che noi diamo come componente specialistica dei Vigili del Fuoco l'aiuto perché il nostro presidio acquatico che andiamo a ubicare a Porto Potenza Picena si inserisce in un dispositivo complesso che si avvale di variare le componenti sotto il coordinamento. Quindi noi nei fini settimana in quella allocazione sarà disponibile personale specialistico con un gommone che all'occorrenza eserciterà l'attività di Sarda, quindi ricerca e messa in sicurezza di eventuali bagnanti che fossero in difficoltà. Cipriani ha ricordato anche come è strutturato questo servizio e quanto personale impiega lungo la costa interessata. Sono tre Vigili del Fuoco specializzati che sono dalle 8 alle 20 presenti lì in Batigia, un presidio che andiamo a ubicare a Porto Potenza Picena. Nei fini settimana inizieremo domani, sabato 29 e 30 luglio e poi 5 e 6 agosto e poi a cavallo di ferragosto, tutti i giorni a cavallo di ferragosto dal 12 al 16 se non erro e poi l'ultimo fine settimana è d'agosto, quindi 10-12 giorni in cui non sarà continuativo anche nei giorni feriali ma soprattutto quando è prevista una maggiore affluenza di bagnanti noi diamo come corpo nazionale il nostro apporto.